Allora, prima di tutto, chi è Emanuele Ferragi insegna a Oxford, è più che un ricercatore, però lo possiamo chiamare legittimamente professore, gli restituisco il suo libro Chi troppo chi niente, grazie di avermelo prestato, Chi troppo chi niente, si parla di diseguaglianza, posso dirle che quando sento parlare, però anche qui noi stiamo cercando di ragionare un po' sui luoghi comuni e sulla retorica, anche perché poi l'ultima cosa che ha detto Simone è molto legata a questa, perché poi c'è sempre la grande differenza fra, come è noto, fra i convegni e la realtà, cioè fra quello che si dice e poi quello che si fa. Allora, qui siccome rimaniamo a livello di quello che si dice e magari pensiamo a quello che si potrebbe e dovrebbe fare, a me questo discorso della diseguaglianza a volte sa un po' di ottocentesco, cioè vedo il quarto stato che avanza, non so, sono io che sono agé oppure... Allora, innanzitutto mi alzo visto che il tema del convegno è scateniamo, ci insegno all'università e non riesco a parlare da seduto. Concetto ottocentesco, soluzione Rampini che... Fa scuola, io ho affrezzato moltissimo le forme e i contenuti del discorso. Salutiamo nel frattempo, mi chiedo scusa per l'interruzione, Enrico Giovannini, Ministro del Lavoro, benvenuto Ministro. Sia chiaro che il suo ritardo è dovuto soltanto a un problema aereo e sarebbe impietoso visto che sostanzialmente... Vabbè, c'è un solo vettore però, vabbè, ok. Fra l'altro trovo che sia interessante che arrivi, non perché presenti il mio libro ma perché penso che quello di cui si dovrà discutere nel welfare, nel mercato del lavoro italiano, ha molto a che fare con la disuguaglianza. Professor Giovannini, stiamo parlando, lei è arrivato al momento opportuno, stiamo parlando di diseguaglianza. Tema a lei noto anche come ricercatore, prima che come Ministro. Allora, si diceva l'uguaglianza e la disuguaglianza temi ottocenteschi. Vabbè, a parte, insomma, dopo aver letto e aver ascoltato le parole di Giacomo Morelli oggi, mi fa molto piacere di essere in completa sintonia sul 90% delle cose che sono state dette. E voglio dire una cosa importante. Il mio libro, ma l'idea di molti, perché non sono solo io a scrivere l'uguaglianza, ovviamente mi ha preceduto un premio Nobel sicuramente molto più qualificato di me a parlare di queste cose, ma ce ne sono altri come Stiglitz che ne parlano in continuazione. Ebbene, l'uguaglianza è oggi un principio unificante, non per tornare a quella dialettica ottocentesca di forzature e di scontro fra le classi, ma oggi l'idea di redistribuzione in questo Paese, redistribuzione, badate bene, di opportunità e di condizione, quindi ci muoviamo su due livelli diversi, è un modo, è il modo migliore che abbiamo per rendere il Paese più efficiente. Nel libro mi occupo di fare quattro cose, la prima è individuare un principio unificante attraverso il quale riformare il nostro sistema di welfare, ma queste sono solo parole, come potrebbe dire qualcuno. Quindi quello che faccio nel libro è spiegare quali sono le forze contro le quali ci scontriamo. Bene, molto spesso in Italia ci si scaglia contro il neoliberismo a livello globale, e questo è un problema, ma in Italia c'è un altro problema molto grave, che è quello del corporatismo. È molto difficile in Italia discutere di forme del lavoro e di discutere di uguaglianza andando al di fuori di alcuni stereotipi, sui quali tornerò successivamente. La terza cosa che faccio nel libro è dire però, una volta che abbiamo stabilito un principio e abbiamo visto contro che cosa ci scontriamo, parliamo di cose che si possono fare, numeri alla mano, cioè diciamo che in questo Paese la redistribuzione non è che non si può fare, le riforme non è che non si possono fare, non si vogliono fare, perché i soldi ci sono, bisogna prenderli da alcuni posti e metterli in altri. E io auguro tanta fortuna al Ministro, perché capisco quanto sia facile per me discutere di questo principio in linea teorica oggi e in tutte le assise nelle quali sono stati invitati a dibattere, e poi capisco quanto è difficile scontrarsi con i corporatismi, con le arretratezze anche di buona parte della nostra classe imprenditoriale, perché non ragionano tutti come giovani di Confindustria e come Jacopo Morelli, e con altre forze retrive, come quelle dei partiti, che comunque non riescono a capire che cosa sta succedendo o non vogliono capire che cosa sta succedendo. Ma l'ultimo punto però, che spesso si dimentica, retrive ha detto, è impegnativo, retrive, no, mi ha colpito. E l'ultimo punto secondo me sul quale dobbiamo riflettere è chi dovrebbe portare avanti questa agenda. Io nel libro identifico che non solo ci sono delle forze sociali che si stanno costituendo, il discorso di Jacopo Morelli ancora una volta mi dà, in un certo senso ragione, mi dà speranza sulle cose che si possono fare in futuro. Ma in Italia su 47 milioni di votanti ce ne sono 25 che si trovano nella seguente condizione. O sono pensionati minimi a 500 euro al mese, o sono disoccupati, o sono lavoratori atipici, o guadagnano meno di 1200 euro al mese. Dico io, un partito, un movimento, delle persone che si mettono insieme in maniera intelligente possono avere la capacità di parlare a queste 25 milioni di persone e anche a pezzi della classe imprenditoriale e della classe media che si sono resi conto che questo paese non funziona. Quindi il libro si articola intorno a questi quattro temi e esistono dei punti specifici che poi dibatto per spiegare come in un certo senso distruggere un certo tipo di catene partendo dal principio dell'uguaglianza. Perché una cosa molto bella oggi l'abbiamo detta, tutte le start-up, tutti questi personaggi straordinari che sono venuti a parlarci dall'estero, l'innovazione di Wynet. Però guardate che c'è pure chi sta dietro. E chi sta dietro è la maggior parte delle persone. Nei paesi normali c'è l'eccellenza che innova e poi però ci si occupa di portare a un livello buono e accettabile tutti gli altri per due ragioni. La prima è una ragione di dignità sulla quale è inutile che mi soffermi, ma la seconda è anche una ragione di puro interesse. Oggi la Indesit chiude, l'elettrodomestico chiude, perché sta morendo il mercato in questo paese. Basta guardare la propensione al consumo degli individui e vedere quello che sta succedendo. che ci stiamo mangiando l'ultima rendita che ci è rimasta. Qualcuno ha evocato l'Argentina prima. Mai Paragone fu più intelligente. È un paese che vive sulla rendita, dimenticando che la ricchezza del paese si faceva sul lavoro. Però speriamo sbagliato. Più intelligente, ma speriamo sbagliato. Me lo auguro. E ad ora è totalmente sbagliato. La direzione è quella, però. La direzione è quella dell'Argentina. Mi faccia chiedere una cosa. Quindi, ci dobbiamo occupare di tutta questa fascia di popolazione, quindi il reddito garantito, secondo lei, è giusto? Io propongo due cose. E qual è la differenza rispetto al reddito minimo a tempo del quale parla Morelli? Allora, quello che propongo io nel libro è una cosa che esiste. Non parli d'altro, risponda a questa cosa che l'ho detto io. Il reddito minimo garantito è quello che propongo io nel libro, ma non lo inventa, non lo invento io. Il reddito minimo garantito è una cosa della quale si parla da anni, è una cosa che esiste con bene e placido di tutti quelli che dicono che non si può fare in tutti i paesi europei dell'Europa occidentale, tranne due, l'Italia e la Grecia, e mi fermo a proposito di paralleli. Quello che propongo nel libro, numeri alla mano, utilizzando dei conteggi fatti da Michele Pellizzari, valente economista dell'Università di Ginevra, è dire garantiamo a ogni individuo in questo paese qualunque sia la sua occupazione, qualunque cosa succeda, 400 euro al mese che poi vanno modificati con alcuni coefficienti familiari. Sostanzialmente la proposta è dire nessuno che si trovi in qualunque condizione in questo paese può guadagnare meno di 400 euro al mese. Questo ci costerebbe ad oggi, perché il reddito minimo garantito è in realtà in alcune regioni, tipo la Toscana, esistono delle forme di reddito minimo garantito ed esiste nel contesto legislativo del Lazio, anche se non è mai stato attuato, significa uniformare una serie di politiche sociali che esistono, tirare fuori altri 7 miliardi di euro e fare il reddito minimo garantito. Quando ci dicono che i soldi non ci sono, io gli faccio notare una sola cosa, che togliere l'IMU sulla prima casa a tutti costa 11 miliardi di euro. Allora, invece, togliamo l'IMU solo sui poveracci, su chi proprio sta a una casa piccola, e 7 miliardi di euro magari li destiniamo a fare il reddito minimo garantito, al quale poi però, la domanda era sul reddito minimo garantito, ma vanno associate altre politiche, perché non basta sostenere i redditi e i consumi, poi bisogna fare politiche attive sul mercato del lavoro, che sono quelle che permettono di riformare l'individuo e di permettergli di rilanciarsi nella società. Un'altra cosa che volevo chiedere, sempre non l'ha citata, però è legata al discorso della diseguaglianza, il nepotismo, cioè c'è un capitolo tra l'altro, ci dice due cose su questo? Ci sono due angoli dai quali io tratto, parlo di familismo, nepotismo, come vogliamo parlare nel libro. Il primo è sugli ordini professionali, un numero. In Italia, se sei figlio di medico, se prendete due persone, entrambe laureate in medicina, se sei figlio di medico, hai quattro volte, quattro volte la velocità di chi non lo è, di chi non era figlio di medico, ma hai il tuo stesso voto di laurea, di accedere all'ordine. Questo perché, perché questo lo diceva prima molto bene, anche il premio Nobel, facendo proprio l'esempio, facendo proprio l'esempio dei medici. Questo perché in questo paese, l'ordine professionale, ha cambiato la sua funzione. Ne parlavamo stamattina in trasmissione con Simone. L'ordine professionale serve a garantire il consumatore, non serve a tutelare la rendita di posizione di uno che ha fatto il medico o l'avvocato. Cioè, dovrebbe servire a tutelare il consumatore e invece... e invece tutela la trasmissione della professione di famiglia in famiglia. Ovviamente questo non è solo un problema di giustizia sociale, facciamo attenzione, questo è un problema di efficienza, perché i nostri talenti, poi sapete che cosa fanno? Prendono e se ne vanno. Perché quando si parla di fuga dei cervelli, non immaginate Emanuele Ferragina che prende e se ne va a studiare da un'altra parte e fa ricercatore, che ci sta pure, la ricerca è transfuga. Ma sono le persone normali che se ne vanno. Io a Londra mi trovo ogni giorno a incontrare sempre più italiani, architetti, avvocati, gente che il suo lavoro in Italia lo potrebbe fare benissimo, bene che si faccia un'esperienza all'estero, ma in questo paese non arrivano professionisti da altre parti e non riusciamo a riattirare i nostri professionisti. E le ragioni sono tante di contesto e di problema, ma tante delle ragioni stanno nel fatto che abbiamo degli ordini professionali che sono, i quelli più potenti, sono un'autentica barriera alla possibilità di fare in maniera innovativa. Pensi ai prezzi amministrati. Se io sono un giovane avvocato come faccio a competere con un avvocato molto bravo, molto forte? Devo fare un prezzo più basso. Non posso, non posso. Quindi sostanzialmente si falsa quella che è la base dell'economia competitiva e non mi si può venire a dire che questo è un principio massimalista. Questo è il principio fondante del libero mercato, il poter competere partendo più o meno dalla stessa linea di partenza. È inutile che io parto 50 metri dietro gli altri, non ci arriverò mai. Sì, se sono proprio forte ce la faccio, ma sarà uno o due. E gli altri? E gli altri è esattamente il problema del quale si occupa la politica e non solo. Grazie, grazie professore. Federico Fubini, Corriere della Sera, almeno per ora. Noi siamo la rivoluzione è un bel titolo, Noi siamo la rivoluzione. E' bello anche come chi troppo chi niente. Siccome c'è un legame fra i vostri libri, un legame che corre, che è assolutamente coerente con l'argomento di cui stiamo trattando e che ha un nome che si chiama Catanzaro. Allora, Federico, io vorrei che tu ci spiegassi l'arcano di Catanzaro. Partiamo da qua. Ah, assolutamente. Poi ti chiedo una cosa sul reddito. Però vorrei precisare che non mi stanno per licenziare questo per ora. Si riferisce e né al fatto che Corriere della Sera che gode di ottima salute e che sto cambiando lavoro e passando alla concorrenza di Feating to the Enemy Camp il mese prossimo passerò a Repubblica e dunque ci siamo spiegati sul per ora. Però invece devo una spiegazione su Catanzaro. Emanuele è di Catanzaro e forse non è un caso che ci hanno messo insieme questa mattina perché io non centro niente con Catanzaro però ho scelto quella città per un capitolo di questo libro Noi siamo la rivoluzione che è un viaggio fra anticonformisti tra persone che portano delle scintille rivoluzionarie in vari paesi del mondo individui uno è Mohamed Bouazizi a Sidi Bouazid in Tunisia ho parlato con tutti i suoi amici ho parlato con la sua famiglia ho cercato di capire cos'è successo in quelle ore che hanno dato purtroppo letteralmente la scintilla alla rivoluzione tunisina e mi sono detto sono stato in altri paesi in India, in Bhutan e mi sono detto che però questo viaggio doveva finire in Italia e ho cercato un posto che in qualche modo fosse come i ricercatori in laboratorio cercano una concentrazione una soluzione chimica particolarmente pura per studiare un effetto io la mia Italia il mio concentrato d'Italia forse così estremo che si può studiare meglio a occhio nudo l'ho trovato a Catanzaro Catanzaro capoluogo della regione più povera d'Italia la Calabria peraltro una città non particolarmente colpita dalla criminalità molto colpita dalla disoccupazione giovanile quello che ho trovato a Catanzaro è un fenomeno che ho trovato in realtà in giro per il mondo negli altri capitoli quando sono andato in India quando sono andato per esempio in Vietnam per il mio libro precedente delocalizzazioni basate sul prezzo e sul costo cosa voglio dire con questo? quando voi iniziate a avere una disoccupazione giovanile che il 40%, 50%, 60% iniziate ad avere una deflazione dei salari di fatto che vi permette di delocalizzare tutti quei servizi che possono viaggiare su un cavo un pochino come il National Health Service inglese si sposta a Bangalore per certi servizi o i call center si spostano oggi americani alle Filippine o i vostri fornitori di servizi fiscali tributari si spostano appunto dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra in Asia soprattutto in India in Italia c'è una delocalizzazione del genere che sta andando verso Catanzaro che è diventata una specie di industry town tutto dipendente dai servizi che viaggiano via cavo e questi servizi sono appunto call center ma tutto quello che loro chiamano contact center per esempio il back office delle grandi imprese, delle public utilities che possono essere l'Eni, l'Enel persino vi dico onestamente come se io faccio il numero verde mi rispondono a Catanzaro assolutamente vi dico, faccio una confessione come ho iniziato a capire questo facevo il centralino del Corriere della Sera che notoriamente è basato a Milano e la risposta era con un accento fortemente calabrese una volta così, due volte così alla fine l'ho chiesto ma dove siete? sono andato lì questo è subcontracting classico è veramente modello bangalore e funziona a costi sempre più bassi oramai voi trovate dei ragazzi che prima erano disponibili a lavorare a 2 euro l'ora adesso voi trovate dei ragazzi che sono disponibili a lavorare a 0 euro pagati a provvigione così diciamo questo è stato un po' il mio concentrato d'Italia però mi preme vorrei dire un'altra cosa perché questo è un libro che ho chiuso l'anno scorso adesso sto cercando di lavorare al seguito di questa esperienza grazie e vorrei dire una cosa io sono un giornalista economico però nasco nel modo sbagliato nasco come studioso di letteratura greca all'università pensate il mio autolesionismo e una cosa ho imparato mi ha reso disoccupato dopo la laurea ma ho imparato l'importanza delle parole e vorrei dirvi che sulla base di questo oggi in Italia c'è una guerra delle parole che rende il nostro paese forse simile a una novella di Gianni Rodari o di Italo Carbino di Calvino o di Borges in cui le parole hanno preso il significato opposto a quello da cui venivano ho l'impressione che ci siano delle coalizioni che io definirei delle coalizioni di destra e sinistra poco importa ma conservatrici quando non reazionari che si sono impossessate del monopolio di quello che gli inglesi chiamano il moral high ground il monopolio delle parole che hanno un valore etico solidarietà eguaglianza molto semplice solidarietà applicato agli ordini professionali vuol dire esattamente lo stesso non si sente mai parlare tanto di solidarietà e di protezione del lavoro come da coloro che lasciano fuori le persone che poi sono diseredate e lavorano nei call center questa è un'inversione semantica veramente da novella dell'assurdo di Corio e di lui Borges e all'opposto dei valori che permetterebbero l'inclusività l'apertura a chi oggi è fuori a chi oggi è povero hanno ricevuto una connotazione negativa sono delle parolacce tanto è vero che non osiamo più usarle anche coloro che ci credono se noi parliamo di liberalizzazioni in Italia oggi questa è una parola che vi connota subito negativamente se ci fate caso è una parola che è scomparsa dalla conversazione quando liberalizzazioni vuol dire che in quell'ordine professionale dei medici ci può entrare anche un ragazzo che merita e che non è figlio di medici ma magari è figlio di impiegati del call center privatizzazioni privatizzazioni è un'altra parolaccia veramente una parola che ci si vergogna a usare ma privatizzazioni vuol dire che quella municipalizzata non assumerà solo più i figli dei per esempio dei dipendenti del comune o degli eletti del comune che spesso questa è un'altra cosa che vorrei sottolineare perché c'è nel mio libro comprano i voti nelle realtà come Catanzaro ma non solo Catanzaro come Como i voti nelle elezioni locali si comprano e si vendono e questa è l'ultima cosa che vorrei dire per adesso e secondo me è la lezione di fondo di questa crisi che ho cercato di esprimere in questo libro che ho fatto e nel libro per il quale sto lavorando adesso è che quando voi vedete degli stati come l'Italia o come la Grecia o come la Spagna che per questa rincorsa del debito smettono di funzionare come stati smettono di fornire i servizi che contraddistinguono lo Stato che sono la dignità di una dieta equilibrata la dignità di servizi di istruzione e sanitari che funzionino io vorrei dire una cosa la Campania è la regione la seconda regione con la spesa sanitaria su pil più alta d'Italia è la regione con l'incidenza di diagnosi di tumori più bassa d'Italia e la regione con una mortalità per tumori più alta d'Italia va bene questo a proposito di parolacce di parole se voi parlate di aggiustare la spesa sanitaria vi dicono che voi siete antisociale siete contro la solidarietà ma guardiamo la Campania guardiamo quello che succede c'è molto da fare è chiarissimo l'ultimo punto che voglio fare è questo quando uno Stato smette di funzionare in questi servizi ci sarà sempre qualcuno che lo sostituisce ma chi lo sostituisce avrà una sua agenda ed è lì che le nostre democrazie liberali sono in pericolo grazie Federico devo dire che stai tutti e due bravissimi e quindi la chiudiamo qui però con una cosa deduco e correggimi se deduco male questa tua insistenza finale sui servizi sulla qualità dei servizi mi fa pensare che forse tu come terreno di contrasto della disuguaglianza sia un po' meno convinto rispetto all'ipotesi del salario minimo o sbaglio rispetto a quello che hai visto in giro insomma naturalmente allora scusami reddito no ma perché è importante perché il salario minimo significa che queste persone non devono lavorare queste persone devono lavorare il reddito minimo è diverso non ragione di più ho sbagliato l'abbiamo detto no giusto la maggior parte l'80% dei poveri in Italia lavora ciò significa che l'80% dei poveri in Italia vorrebbe avere un reddito più alto ma non ce l'ha e quindi per quello che dobbiamo fare perché io mi arrabbio costantemente quando ascolto la televisione italiana perché si parla di reddito di cittadinanza come se fosse il reddito minimo garantito e poi è chiaro che se uno propone il reddito minimo garantito diventa un pericoloso massimalista no il reddito minimo garantito è una cosa normale che esiste in tutti i paesi normali e viene data anche a gente che lavora questo chiaro grazie grazie della correzione Federico chiudi no Dario dovete sapere che Dario siccome siamo d'accordo sul 90% delle cose sta cercando quel 10% e l'ha trovato perché perché io penso che il problema non sono contro un reddito minimo garantito in principio però penso che il problema dell'Italia non sia tanto sostenere i consumi oggi quanto sostenere la capacità di produrre reddito in Italia se c'è una battaglia oggi secondo me non è tra destra e sinistra ma tra rendite è stato detto nella presentazione di Morelli tra rendite e lavoro tra produttori attuali e potenziali e persone che difendono le loro rendite noi oggi dobbiamo mettere gli italiani in condizione di produrre reddito non di consumare di più grazie grazie volevo lanciare un messaggio positivo un messaggio positivo che viene dai numeri tristi allora l'Italia è il paese con la mobilità sociale più bassa d'Europa c'è in Italia come diceva bene Jacopo Morelli prima è il paese dove è più difficile se sei figlio di operaio diventare imprenditore e via discorrendo la Corea che è stata evocata da qualcuno nel 1953 aveva un prodotto interno lordo uguale a quello dell'Uganda cioè non un paese ricchissimo oggi la Corea del Sud ci ha praticamente raggiunto questo significa ed è un paese che ha speso tutto sulla sua scuola tutto sulla formazione ciò significa che cambiare si può e quindi anche se le condizioni sono difficili dobbiamo abbandonare questo maledetto vittimismo che viene fomentato dalle persone che non vogliono cambiare questo paese quindi noi dobbiamo smetterla di tirarci la zappa sui piedi e di dire che il paese non può cambiare il paese può cambiare è difficile dobbiamo combattere dobbiamo fare le rivoluzioni delle quali parla Federico ma dobbiamo farle con coraggio e con dei principi chiari in testa grazie 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 professore grazie a Manuele Ferragine e grazie a Federico Fulbini allora lavoro e fisco stiamo arrivando lavoro e fisco